Siamo contenti, questa tredicesima edizione è un numero fortunato ed è anche segno del rilancio. Ci rivediamo tutti con la mascherina sul volto, tutti con attenzione, ma c'era tanta la voglia di rivedersi. Oltre 200 le aziende presenti qui in Fiera, tanti visitatori, moltissimi farmacisti che sono già intervenuti e che stanno intervenendo in queste ore. La farmacia ha grandi novità, sono due anni che rappresentano ancora meglio il presidio sanitario sul territorio, offrendo anche servizi di vaccino e di tampone che in un periodo come questo sono estremamente utili a tutta la cittadinanza. Qual è l'azienda che siete riusciti a portarla? Anche perché chi organizza Fiera sicuramente cerca sempre di mettere una chicca in più. Sono molte le aziende che sono venute quest'anno per la prima volta e siamo contenti. Devo dire, posso citarne senza neanche fare i nomi, le quattro principali aziende produttrici di robot per farmacia che grazie alla possibilità di sfruttare il credito fiscale sono presenti qui in Fiera e offrono la possibilità ai farmacisti di rinnovare completamente la propria farmacia, il magazzino della propria farmacia sostituendolo con un robot con costi realmente risibili in quanto finanziabili al 95%. Quindi vuol dire che avremo un'automazione delle farmacie del futuro? Sì, automazione e digitalizzazione sono moltissimi gli schermi che sono presenti oggi in Fiera perché oggi il farmacista nella propria farmacia oltre al prodotto ha anche lo schermo che permette al cliente di interagire direttamente con questi grandi schermi touch che saranno la novità del 2022.